Nella nostra città tornano le prime grandi fiere dell'epoca post-Covid. Nel fine settimana del 5 e 6 settembre ecco il Gola Gola Festival, la seconda edizione della rassegna enogastronomica in centro storico a Piacenza. L'assessore al turismo Jonathan Papamarenghi specifica che si terrà con una clausola importante, quella per cui, in caso di una situazione epidemiologica sfavorevole, l'evento possa essere sospeso. Covid permettendo quindi il Gola Gola Festival animerà Piacenza con cooking show, street food, ristoranti a cielo aperto, mercati di prodotti tipici, laboratori, musica, arte e cultura. L'iniziativa è organizzata dalla società Ideares di Fidenza con uno stanziamento pubblico di 95.000 euro da parte di Comune, Fondazione di Piacenza e Vigevano e Camera di Commercio. I piacentini potranno tornare anche sul tradizionale mercato europeo con stand provenienti da ogni parte del pianeta. L'iniziativa si svolgerà dal 18 al 20 settembre sul Faxal. L'iniziativa si svolgerà dal 18 al 20 settembre sul Faxal.